Si torna a Cavriglia per Arezzo Wave, ci sono le date, ci sono gli ospiti, allora cosa ci regalerà questa edizione? Ma è un'edizione che raddoppia, un'edizione che avrà tutta una serie di ospiti in vari campi della musica italiana e internazionale, quest'anno abbiamo la Spagna oltre che l'Ucraina, abbiamo il teatro con Paolo Endel, abbiamo letteratura con Marco Vichi, la presentazione del libro di Arezzo Wave e poi abbiamo i 12 migliori gruppi di artisti italiani che saranno lì sperando che diventino famosi come tanti altri artisti che sono passati da Arezzo Wave. La cosa a quale teniamo tantissimo è quella di dare un'opportunità a questi ragazzi, dietro a loro c'è il loro talento, la loro passione, il loro impegno e quindi è importante poterli far esprimersi appunto in questa loro passione. Noi lo facciamo in due location straordinarie di Cavriglia, una è il Teatro Comunale del Capoluogo, l'altra è il Borgo dei Borghi della Toscana, cioè Castelnuovo d'Avane. È il secondo anno che diamo una mano a Arezzo Wave e ai tantissimi gruppi di ragazzi di tutta Italia che usano questo canale per manifestare il talento, le vocazioni e è un enorme piacere. C'è la retorica che i ragazzi sono peggio di come sarà noi, non è mica vero, bisogna dargli spazi, bisogna crearli e avere il coraggio di scommetterci sopra e io sono convinto per Arezzo Wave, per il campo della musica, ma per tutto, che sarà meglio di noi.